Professor Manes, lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni rappresenta una chiave di lettura trasversale. Che significato assume nel rapporto BESS? Senz'altro è molto attuale e importante anche nell'ottica dei 17 obiettivi che si sono stabiliti nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e quindi per quanto riguarda l'ambiente ad esempio riveste un ruolo fondamentale per la qualità della vita, per il benessere del cittadino all'interno anche in particolare degli ecosistemi urbani dove naturalmente la qualità dell'aria e la qualità ambientale più in generale riveste un ruolo importante per la salute del cittadino. Il problema legato all'inquinamento atmosferico, il problema legato all'isola di calore urbana di cui tanto oggi giorno si parla in relazione ai cambiamenti climatici, il consumo di uso del suolo e quindi tutte queste problematiche risultano estremamente attuali per valutare e monitorare la qualità ambientale e di conseguenza il benessere e la qualità della vita. Tutto questo assume un rilevo importante per le polisi? Senz'altro io ritengo che la politica europea che valorizza le soluzioni basate sulla natura debba essere perseguita il più possibile, affiancare alle conoscenze e agli avanzamenti tecnologici le Nature-Based Solutions secondo me oggigiorno è di fondamentale importanza.